Sitin di protesta davanti ai cancelli della RSA di Albivio di Bellocchio a Giulia Nove da parte degli ex dipendenti dei sindacati CGL. Una struttura aperta per il periodo di Covid è chiusa il 28 ottobre scorso e che sulla carta dovrebbe essere aperta per i pazienti affetti da Alzheimer, demenza, ma che ad oggi la ASLE di Teramo ancora non riesce ad attivare. 949 posti accreditati dalla regione Abruzzo nelle diverse province per l'Alzheimer e per la demenza, solo 77 riguardano la ASLE di Teramo. Questo dato ci aiuta a capire che non è più rinviabile offrire un setting assistenziale così importante ad una provincia come quella di Teramo. In più ci sono circa 40 lavoratori in attesa di poter tornare a lavorare in questa struttura ed è per questo che oggi lanciamo una provocazione. La RSA di Albivio di Bellocchio, se la ASLE di Teramo e la regione Abruzzo non sono capaci di riaprirla, abbiamo le professionalità per poterlo fare noi in piena autonomia. Segretario, parliamo di numeri, una struttura che andrebbe a risolvere tante problematiche. Assolutamente sì, noi in provincia abbiamo circa 6.000 persone con problemi di Alzheimer o demenze simili, più o meno gravi. E abbiamo una condizione nella quale c'è bisogno di migliorare la qualità della vita di tutte queste persone. Tra l'altro sono il 5% delle persone ultra 60 anni hanno un problema di questo tipo. Quindi migliorare la loro vita e migliorare quella delle loro famiglie che in questa condizione sono quasi lasciate da sola. La struttura inaugurata, ricordiamo il 20 aprile 2020, era stata destinata alle dimissioni protette dall'ospedale dei pazienti Covid, positivi e ancora sintomatici e aperta a pazienti che necessitavano di isolamento e sorveglianza sanitaria, come i turisti, ospiti, strutture ricettive o pazienti di case di riposo. La struttura penso che sia molto importante per il territorio, soprattutto dopo i due anni e mezzo di lavoro svolto con fatica e mettendo in campo tutti noi stessi due anni e mezzo di Covid, dove eravamo considerati eroi di corsia e da un giorno all'altro sbattuti fuori. Quindi penso che non sia una cosa fattibile e come possiamo vedere questa struttura ad oggi ancora è chiusa, nonostante tutte le promesse che ci sono state fatte.